Ciao a tutti ragazzi sono Kendall e benvenuti in questo nuovissimo video delle build No, 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 lui, lui che sta guardando questo video subito deve lasciare un like, dobbiamo arrivare subito a 10.000 mi piace Andrea stiamo parlando con te, lascia mi piace adesso Fammi finire, fammi finire perché l'ultimo, l'ultima super build, porca miseria, ha raggiunto un numero incredibile e piaciuta tantissimo Calma, ti rilassati, ti prendo una pezza, ti prendo una pezza così ti asciughi la fronte e sei tutto sudato, calmati Sì, sì, quanti mi piace hanno aggiunto l'ultimo? 20, no, no, non mi ricordo però questo 20 o 20.000 scusa 20.000 questo video, questo Ok, allora ragazzi nello scorso video avete supportato veramente tantissimo, siete contenti del ritorno delle build battle quindi, bella faccia Se superano i 20.000 mi piace queste build battle le vinceremo Sì, buona fortuna, ciao Potremmo fare una patata gigante con gli occhi, la bocca e le braccia? Ok Patata gigante con gli occhi, ok, patata gigante, quindi per fare una patata che cosa ci serve? Mr. Patata Mr. Patata, esatto, gli possiamo fare anche i baffi Vai Ok, allora aspetta, lo facciamo tipo a forma di banana Perché a forma di banana c'è una patata? Perché secondo me fa Ma che cavolo di patata hai visto? Va bene, ok, ok, allora vediamo, come lo vuoi fare? Dobbiamo fare una patata gigante Una patata gigante, dai Una patata gigante, bella faccia un po' una patata gigante Ma cosa stai dicendo? Ma cosa stai facendo, scusa? Una patata gigante Dobbiamo fare grande Prendiamo la forma, facciamo la forma per favore Formaggio, cosa c'entra il formaggio? Chiudi, cancella, cancella, cancella No, no, no Cancella, cancella Io me ne vado Ascolta mia, ascolta Io me ne vado Facciamo la forma Quindi per fare la forma dobbiamo fare prima un cerchio, giusto? Quindi così Allora questo non serve più a niente Sì esatto, quello non serve più a niente Porca miseria Facciamo un cerchio prima, eh Così Poi È già sbagliato Così 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 Bravissimo, vedi? Adesso basta, possiamo lasciare così E adesso No Genio Adesso dobbiamo semplicemente trasferire questo cerchio più in alto Quindi prendiamo queste basi In questo modo qua Ok E poi lo facciamo volante Cioè non volante Però gli dobbiamo fare le gambe Infatti O se no seduta No, no, no Lo facciamo con le gambe No, no, no Le gambe sai come voglio farle? Nere Voglio fare degli stichetti neri Sì Le gambe sottili, sottili, neri L'ho detto prima io Ok, continua con il cerchio qua No, aspetta, aspetta Porca miseria Non rompere tutto Se no non si capisce Completa il cerchio, ok Guarda te Mi fa sempre Far a me tutte le cose Dillo, dillo Sono un genio Sei Eugenio Sono Eugenio Vabbè, l'ho detto anch'io Mister Patata Non è che Sì, però chi è che ha fatto il cerchio Io Per fare la base Ah, vabbè Si vuole molto a fare un cerchio Chiamiamola NASA Te stai facendo una costruzione a caso Pronto, NASA? Sì Vorrei un cerchio Pronto, NASA Quanto mi viene a costare? Ah, un milione di dollari Almeno 30 Secondo te hanno già Mi piace a questo video? Secondo me no C'è Luigi che ancora non l'ha fatto Luigi Luigi Cosa stai aspettando? Eh? Ok, allora Completa la patata Perché tu sei bravo Guarda Lo facciamo con la faccia di qua Prendiamo il nero E gli facciamo gli occhi Baffi e la bocca Vai, sbriga I baffi Si stanno I baffi tipo così Oh mio Dio Oh mio Dio Sembra già Mister Patata Mister Patata Guardalo Fa vedere E i baffi più belli però Cos'è sta roba? Perché? Eh, devono essere il centro Il pezzo forte Il centro forte? Il centro forte Il centro forte Il centro forte Va bene, allora Allora ho capito come li vuoi fare Ho capito tutto I baffoni I Mister Baffoni Ecco, bravo Già vedo che stai capendo Sì Ok, ok, ok Chiaro I baffoni dei baffoni Va bene, va bene Quindi facciamo dei baffi così Io faccio gli occhi Oh mio Dio Io faccio gli occhi Gli occhi devono essere No, no, no Metti due teste No, li facciamo grossi Se no che si insomma Ok, però Metti due teste nere Metti due teste nere No, no, no Dai Così, guarda Che si guardi i baffi Guarda che bella Guarda, guarda Adesso prendiamo il rosso Ok, arriva, arriva, arriva Qua prendiamo il rosso E gli facciamo la bocca Oh mio Dio Come si chiamava? Mister Patata? Mister Patata Ma sei sicuro che si chiamava così? No, boh Ah, l'ha inventato Sì, ovvio che l'ha inventato Mister Patata, dai Ok, gli facciamo i denti a Mister Patata Guarda gli occhi Dimmi se non sono belli È lui È lui È Mister Patata È Mister Patata Ok, adesso Completo tutto qua Chiudilo Mister Spazzareve Questo è il mio nome Completa tutto E poi gli facciamo tipo Le gambe così Con dei piedini Con delle scarpette bianche Ok, così Ce le ho già Bravo Così Ecco Oh mamma È lui È lui È proprio Mister Patata È Mister Patata Ti somiglia un po' No, ti somiglia a te invece Ok, così Dobbiamo fare le braccia anche Fa ridere un sacco Allora, aspetta Le patate hanno anche nella buccia Tipo dei puntini marroni Non sono perfettamente colorate Ma le braccia le facciamo? No Certo, le le fai tu Ok Esattamente come le sue gambe Fai delle braccia tipo verso il cielo Braccia felici Capito? Eeeh Ehi È bellissimo Allora ragazzi Penso che questa sia la costruzione più bella in assoluto che abbiamo mai fatto Gli faccio un cappello Aspetta Il cappello di Mister Patata? No, aspetta, ci penso io Vai, io gli faccio Non muovere un muscolo Non muovere un muscolo Io gli continuo a fare le macchiette marroncine qua delle patate Oh mio Dio Se riesco a fare quello che ho in testa Il sombrero? Il sombrero? Te gli vuoi fare un sombrero? No Non lo so però Secondo me poi aggiungiamo troppe cose e lo roviniamo Per ora sembra una patata spagnola, devo dire Tipo con le nacchere, un po' messicana Sai cosa sembra anche? Che cosa sembra? Non lo so Guarda, guarda, il sombrero è così Aiutami, aiutami E come? Io non so come si fa un sombrero Allora chiudi tutto qua Chiudi tutto qua Ti spiego io Ok Ve la faccia se poi viene male Eh cavoli tuoi No dai, togliamolo No, no, aspetta Te sei sicuro che sei fare un sombrero? Guarda, e qua Lo fai bello grande Alzalo Vai Ma io non so neanche com'è un sombrero Alza, alza, alza così Ecco, fino qua Questo è il tetto Bene, bene, alza Esmi la colpa Ok, ok, ora? Basta È bello Lascia, lascia Si siamo? No, no, vieni qua Vieni a guardarlo No, no, no Devo finire, devo finire Ragazzi Se non vinciamo con questa Io non so Veramente la gente cosa vota Credo sia la patata più bella E con più stile Che io abbia mai vissuto tutta la mia vita Avevo un mantello rosso Oh, se gli facevamo il mantello rosso Era la fine No, è bellissimo È proprio una di quelle patate Tipo l'S Con i baffi Poi la patata messicana Come lo chiamiamo? Diamogli un nome Mister patata No, dai, un nome più messicano Gianni Gianni Gerardo Oh, il no Ma siamo solo noi? No, ma va Bella questa Bella Cos'è? Un uovo Una sposta Aspetta, che lo covo Penso che questa sia La costruzione più brutta Di tutte le Build Battle Questa è la costruzione più brutta Di tutte le Build Battle Giochiamo contro il peggiore costruttore Il peggiore No, questa cos'è? Una patata? Questa è una patata? Ok Con forchetta e coltello Un bicchiere d'acqua Ok No Una patata morente Una patata morente No, è dentro la terra Deve essere ancora raccolta No Good Good È simpatica Le patatine con No La maionese Buona L'idea è ok La maionese no La maionese non mi piace Che schifo Gli do un ok Ah, sì Patatine fritte Del McDonald's Ok Altissime Ok French fries Va bene Dai, un good Posso dirlo Questa è la costruzione più brutta Questa? Di tutto Minecraft Sì, in effetti Eh, cos'è? Super poop Super poop No Ti correggo Questa No, almeno è una patatina Però almeno c'è una patata Però la TNT Bello Questo è fatto molto bene Devo dire Io gli darei epico anche Eh, bello Le patatine sono fatte molto bene Sì, sì, sì Dove, da l'ora di vedere le nostre Ah, questo mangia le patate Patate al forno Forno Anche questo è good O less Sì Good, good, good Good, good, good Dai, voglio le nostre Dov'è la nostra? Patatine del McDonald's Ci stanno boicottando Non vogliono far uscire la nostra Maiali imprigionati Tanto resce per ultima E non ci vota più nessuno Bello questo Sì, infatti L'azienda è già uscita Ok, good Eccola Mr. Patata Dai, ragazzi È gigante Perché è super poop? Mr. Patata Leggendario Good, good, good Leggendario Un poop Mr. Patata Due poop Ho visto solo due poop Fino ad ora Bello Lo sta tagliando Bello Eh, questo è fantastico Good Bello il coltello Bella l'idea Veramente good 3, 2, 1 No Oh Ma cos'è? Una pixel art? Una pixel art Oh mio Dio Abbiamo vinto Patata congelata 184 punti Questo è il birope Questo è il birope Ragazzi Non abbiamo perso Non abbiamo rivali Non abbiamo rivali Troppo bello Casa delle bambole Allora Bella faccia Io non gioco con le bambole Ma come non giochi con le bambole? Io ho visto camera tua Ed è piena di bambole Inutile che menti Allora Facciamo una bella casa delle bambole Tipo rosa e viola Oh, delle barbie Come piacciono a te E poi facciamo E poi facciamo Guarda Facciamo tipo Non lo so Un pupazzetto Una barbie Qualcosa del genere Con qualcuno che ci gioca Seduto per terra Ma se facciamo le nostre skin dentro Che sono dei giochi Sì, ok Non ce la faremo mai Se sono troppo piccole I dettagli non passano Questo cos'è? Sto cercando di fare la casetta Ah, ok Dai, ti aiuto Tipo una casa viola Lo dobbiamo fare in un altro modo Facciamo piccolina Col tetto rosso, dai Ok, ok, ok Sì, sì Tanto l'importante è Fare un bambino Una bambina Che gioca Con queste bambole Te quante bambole hai a casa? Dile la verità Zero O pupatti di Minecraft Dile la verità Bella faccia, dai Eh, genio Devi cambiare il pavimento Prima Perché devo cambiare il pavimento? Eh, eh Dello stesso colore della pelle Ah, ok Invece di dire cavolate Facciamolo in dirt, dai Ok, così Che dici? Eh, molto meglio, sì Ok No, allora Io ragazzi ci sono stato a casa di Bella Faccia Vi assicuro che ha una collezione infinite di Barbie Ma che cosa stai dicendo? Le cavolate Che dici? Le cavolate Non sembra proprio una persona Però sono tipo le gambe incrociate, no? Si capisce? Sì, dai Più o meno Come più o meno? Più o meno È il massimo che riesco a fare Mi sto impegnando tantissimo Più o meno Ecco, la casina è completata Allora, te Ok, ci facciamo così Allora, gli dobbiamo fare tipo delle braccia lunghe Ma che braccia lunghe che hai? Sta giocando con le Barbie I capelli biondi Tu fai un altro bambino là seduto che fa... Che gioca con le bambole, ok? Che medita Non che medita Non deve dire Questa è tipo una coda Ecco, la treccia dietro Così È pelata questa bambina No, poverina Bella faccia ha sempre la fobia dei pelati Dei pelati Bella faccia ha paura dei pelati, ragazzi No, non è vero Sì che è vero, ragazzi Fidatemi di me Ho paura di diventare pelato Ecco, bella faccia ha paura Non ho paura dei pelati Che cavolo vuol dire? Vedrete, bella faccia tra un po' di danni Che inizia a perdere i capelli Non è vero, non è vero Ok, fammi vedere Come vedete, ragazzi Non abbiamo perso assolutamente la mano Nelle costruzioni Siamo molto, molto bravi Bimbo Bombo Ah, bravo, così? Bravo Bimbo Baggins Bella faccia cosa stai combinando Fammi vedere Eh, devo dire che... Bravo Gli occhi li mettiamo così Però una bambola gliela vuoi fare o no? Scusami, eh Cos'è? Non ha la bambola questa bambina? Eh, no Perché povera Non può permetterci le bambole No, poverina, no No Ci sta? Casa delle bambole Due bambine che stanno giocando Abbiamo la macchina La macchina delle bambole La macchina delle bambole, bella faccia? La macchina delle bambole Queste bambole sono straricche Eh? La casa, la casa devo dire che fa un po' pietà, bella faccia Io non so che cosa hai costruito Tu me lo vabbè È carina, è carina Però devo dire che... Sì, 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 sì Questa qua è molto bella La mia casa è leggendaria La mia costruzione è migliore Devo ammetterlo Oh Bella Beh, questa è proprio in stile casa delle bambole Good 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 Anche la gente dentro Questa è bellissima Però non è completa No, no, no Io gli do un ok solo perché non è completa Ho capito Ma non è che siccome è rosa Allora è una casa delle bambole No, dai Poi è tutta in là Gli do un ok Gli do un ok E vedi, anche questo Tutto rosa Noi almeno abbiamo usato il viola La prima era la più bella Perché è aperta La casa delle bambole Sì, la prima era bella Sì È questa Bandiera del Giappone Non è finita No, non mi piace E che c'entra, scusa Beh, però è una bella casa, devo dire Ma non è una casa delle bambole Magari dentro c'è una bambola Vabbè, ok Oh, devo dire Questa Questa ci sta, dai Un good Questa merita Good sicuramente È casa delle bambole Eh, in effetti ci somiglia molto Ecco la nostra Eccola, eccola Ma noi siamo gli... No, gli occhi neri Perché gli occhi neri? No, il mio non ha gli occhi neri Ma i miei erano bianchi Leggendario, leggendario Ho visto degli leggendari Eh, speriamo Perché siamo Fino ad ora Quelli che abbiamo fatto La costruzione migliore Ma cos'è questo? Ma questa? No, mi dispiazza Ma cos'è? Ma è 2D? Mi dispiazza Cioè, è... No Oh, abbiamo vinto Non ci credo 110 punti Grazie, grazie Tutto merito Come vedete abbiamo ancora Il tocco dei costruttori Il tocco di velluto Io credo che sia chiaro Chi è il migliore costruttore Di tutto Minecraft E io dico anche una cosa Sentiamo Se questo video raggiunge 12 mi piace Kendal farà un video Con le mutande in testa No, 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 no Ragazzi, mi raccomando Non ascoltate bella faccia Lasciate un mi piace Iscrivetevi al mio canale Se non l'avete ancora fatto Dal vostro Kendal E dal pollo è tutto E noi ci vediamo domani Con un prossimo video Ciao Ciao